Da una lettera della madre. Il 25 agosto del 2016 sono stato contattato via email da Anna, la mamma di Davide, che mi ha spiegato la situazione di salute del figlio. Da allora ho intrattenuto rapporti con Davide Trentini fino a quando ha ricevuto la cosiddetta luce verde, cioè la verifica delle condizioni necessarie per poter ottenere l'assistenza alla morte volontaria in Svizzera. Abbiamo raccontato come dichiarazioni spontanee tutto quanto accaduto e da noi messo in atto nell'aiuto a Davide Trentini per ottenere l'assistenza alla morte in Svizzera.